Oggi si entra ufficialmente nell'ultimo mese di stagione regolare della MLB, è tempo dunque dell'ultimo recap prima di addentrarci nel magico mese di ottobre, quello che decide una volta per tutte chi sarà il campione della stagione MLB 2024. Per una volta però in questo recap non partiremo dalle classifiche aggiornate al primo di settembre ma dobbiamo parlare di quello che per il movimento italiano del baseball è qualcosa di storico e leggendario, sapete tutti che nella notte tra giovedì e venerdì Samuel Aldegheri è stato chiamato in Major League Baseball per lanciare una partita contro i Seattle Mariners e saprete sicuramente tutti che il giocatore classe 2001 di Verona nella notte tra venerdì e sabato ha esordito contro appunto il Seattle Mariners. Una partita peraltro persa per 9 a 5 in una sfida che comunque ha fatto vedere che Samuel Aldegheri ci sa fare e ha fatto una discreta prestazione ma appunto per chi non conoscesse il giocatore facciamo un attimo un focus su Samuel Aldegheri appunto classe 2001 di Verona, giocatore peraltro nato e cresciuto baseballisticamente in Italia, ha giocato come primi passi baseballistici a San Martino Bonalbergo, è andato poi a trasferirsi ai Danos di Verona, ha giocato per un anno nel mio parma baseball peraltro fresco campione d'Italia nella serie vinta contro San Marino e poi si è trasferito negli Stati Uniti. Fino letteralmente a meno di un mese fa era nell'organizzazione dei Philadelphia Phillies, nel video peraltro della 3 Deadline ne avevamo parlato, è stato poi scambiato in uno scambio che appunto ha portato Carlos Esteves, closer dei Los Angeles Angels, ai Philadelphia Phillies appunto e ha portato Samuel Aldegheri e altri prospetti giovani di talento ai Los Angeles Angels, ma non in Major League ovviamente, nelle minors. Aldegheri era assegnato alla squadra di WA, il Rocket City Trash Pandas e appunto è arrivato il 31 agosto 2024 il grande debutto, parlo ovviamente per quanto riguarda la data americana, la partita contro Seattle si è svolta alle 6 di mattina nostre 21 e 38 locali. E quindi il numero 66, Taverona, ha esordito in Major League, parliamo del primo lanciatore nato e cresciuto baseballisticamente in Italia, quindi momento storico per il nostro movimento del baseball che appunto in Europa ha sempre detto la sua, ma in Major League ha portato soltanto Alex Liddy appunto a livello senior. C'è stato anche Alessandro Maestri che è arrivato però in AAA con i Caps e ha girato il mondo, un altro grande giocatore Alessandro Maestri, però appunto in Major League di italiani nati e cresciuti ecologicamente nel nostro paese sono arrivati soltanto in due, appunto Alex Liddy nel 2013 con il Seattle Mariners e Samuel Aldegheri da Verona con i Los Angeles Angels of Anaheim, squadra che in realtà non naviga in buonissime acque. Come è andato però il debutto di Aldegheri con i Los Angeles Angels? Direi in modo discreto, è vero che risulta il lanciatore perdente di questa partita e formalmente ha incassato 7 punti, ma il tabellino della partita appunto tra Seattle e Los Angeles Angels va analizzato con tanta attenzione, perché sì, Aldegheri ha subito 7 punti, ma ne ha guadagnati solo 2, perché 5 dei 7 punti sono figli di errori difensivi e in uno in particolare ne parleremo. Per chi comunque non conoscesse il gioco del baseball sappia che i punti guadagnati sul lanciatore sono quelli che non sono frutti di errori della difesa, se appunto sono invece di responsabilità piena del lanciatore, che magari concede una base per ball, una valida o un fuoricampo appunto alla squadra avversaria, allora in quel caso il punto è caricato sul conto del lanciatore di turno. Viceversa, se come per esempio nel caso dei primi punti di Aldegheri sono frutto di errore, allora non è esattamente così, tant'è vero che se scorriamo bene il tabellino della partita lo possiamo vedere. Aldegheri comunque ha lanciato 5 inning, ha subito 6 valide, 7 punti concessi, 2 guadagnati su di lui, quindi media PGL di 3,60, 2 basi per ball, 3 strikeout e peraltro un fuoricampo concesso per appunto un esordio discreto. Abbiamo visto esordi peggiori in assoluto anche di lanciatori più quotati, ricordiamo però appunto una cosa importante, Aldegheri giocava nel doppio A dell'organizzazione di Los Angeles Angels, quindi di fatto una sorta di serie C del baseball americano, quindi aver fatto il doppio salto dal doppio A alla Major League è un qualcosa che non si vede così tanto spesso e se viene fatto è perché evidentemente l'organizzazione vede in quel prospetto un qualcosa di tanto positivo. chissà mai di speciale. Il merito di aver chiamato Aldegheri in MNBLB è di Ron Washington, attuale allenatore degli Los Angeles Angels, storico coach di terza base, dei 30 anni che hanno vinto il titolo del 2021 e grande allenatore dei Texas Rangers, tutto sommato quindi possiamo dire che l'esordio di Samuel Aldegheri è tutt'altro che scarso, anzi il ragazzo ha già fatto vedere qualcosa di veramente importante e chissà che non possa effettivamente arrivare a giocare altre partite in Major League. Peraltro l'esordio non era proprio dei più semplici perché giocavamo contro il Seattle Mariners squadra che è seconda nell'American League West e si sta giocando un post playoff. Ma appunto andiamo a vedere quelli che sono gli highlights della partita tra Seattle e Los Angeles, ci addentriamo subito dunque in questa review. Appunto come detto prima Aldegheri subisce 5 punti nel corso del primo inning ma appunto gran parte di questi punti non sono guadagnati sul lanciatore veronese perché sono figli di un errore e l'errore lo vediamo in questo momento. Polanco ha la battuta, Aldegheri ha due uomini in base e due out, la battuta di Polanco però viene mancata clamorosamente da Zach Neto, uno dei pochi lanciatori interessanti della organizzazione dei Los Angeles Angels. Arrivano i primi due punti subiti in carriera da parte di Samuel Aldegheri ma vedete qui Neto con una sufficienza terribile, manca il contatto con la palla e non prende questa linea che poteva essere un out facilissimo al volo. Vedete bene che se Neto avesse completato la giocata nel modo corretto parleremmo di terzo out e in concluso a 0 punti. Nello stesso inning però comunque con i 5 punti subiti abbiamo comunque una nota lieta per Samuel Aldegheri perché appunto abbiamo detto prima Aldegheri ha effettuato 3 strikeout e quello che vediamo è il primo della carriera del giocatore di Verona che mette strikeout un giocatore che propriamente non è che è qui per caso. Cuglio Rodriguez infatti viene capponeggiato malissimo con questa fastball interna strikeout per Samuel Aldegheri, primo della carriera del lanciatore di Verona e primo in assoluto di un lanciatore della nazionale italiana con appunto un score in MLB. Qualcosa di veramente impressionante a prescindere dall'esito di questa partita possiamo dirlo per il baseball italiano e per noi appassionati che cerchiamo di divulgarlo in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. È veramente qualcosa di leggendario quindi io personalmente ringrazio Samuel Aldegheri per averci regalato una pagina importantissima di storia e sperando che ne possa regalare tante altre e anche di migliori. Detto questo torniamo a bomba sulle classifiche della stagione regolare che appunto sono aggiornate nella nottata di ieri, ripetevo all'inizio del video siamo entrati a inizio settembre, è l'ultimo mese di stagione regolare di conseguenza da qui in poi ogni vittoria vale doppio e evidentemente ogni sconfitta permetterà di mettere come dire delle distanze tra le squadre vincitrici e le squadre che invece se la stanno giocando. Partiamo come al solito dalla disamina da est a ovest nell'American League East, i primi in classifica sono i New York Yankees di uno scatenato Aaron Judge, 79 vittorie, 57 sconfitte, 6 vinte nelle ultime 10 ma una sconfitta aperta. Record similare ce l'hanno i Baltimore Orioles che di fatto sono i principali contender al titolo Division, 78 vinte e 59 perse per la formazione del Maryland, una partita e mezzo di distacco rispetto ai Bronx Bombers ma 4 vinte nelle ultime 10. I Boston Red Sox sono terzi, 70 vittorie, 66 sconfitte, sono 9 le partite di distacco rispetto alla testa della classifica della Division, 3 e mezzo rispetto alla Wild Card di cui però parleremo a fine video per una formazione che al netto di tantissimi infortuni e un core abbastanza strano in qualche modo riesce a cavarsela sempre e non è ancora del tutto tagliata fuori. Sono tagliati fuori invece nel modo di vedere chi sono in quarta e in quinta posizione, i Tampa Bay Rays sono appunto quarti con 67 vittorie e 68 sconfitte al netto che comunque hanno vinto l'ultima partita, quindi sono i Toronto Blue Jays stesse vittorie, le Tampa Bay Rays ma più sconfitte sono 67 vinte e 71 perse per i canadesi che ancora una volta hanno performato verso sud e sostanzialmente sono già chiamati fuori verso qualunque discorso playoff. Abbiamo parlato degli Yankees, comunque abbiamo parlato di un sontuoso Aaron Judge, ebbene sappiate che Aaron Judge ha raggiunto un milestone veramente incredibile in una partita del 14 di agosto contro i Chicago White Sox, la squadra peggiore della Lega ma che comunque entra nella storia dalla parte di aver subito un milestone importante perché Aaron Judge il 14 di agosto ha sbattuto fuori il trecentesimo fuoricampo della carriera e lo fa in questo momento un fuoricampo da tre punti che viene sbattuto fuori oltre le recensioni dello US, Cellular Field, fuoricampo importantissimo per Aaron Judge ma non solo per il numero ma per il numero di partite che Aaron Judge ha impiegato per raggiungere questo milestone. Aaron Judge infatti è diventato il giocatore più veloce della storia a raggiungere questa cifra. 955 partite sono bastate al capitano degli Yankees per arrivare a ancora una volta consacrarsi come uno dei migliori giocatori di quest'era moderna del gioco. veramente tantissima roba per Aaron Judge che sta facendo una stagione da MVP dell'American League e peraltro è ancora in passo per raggiungere il record di fuoricampo ottenuto da lui stesso qualche anno fa. Aaron Judge arrivò a 62 e sarebbe nel passo per arrivare anche oltre e quindi attenzione perché il mese di settembre potrebbe essere assolutamente fondamentale per battere il record ufficiale di fuoricampo della Lega e dell'American League. Rimaniamo però nell'American League East per parlare di un qualcosa di campo che è successo ma per un qualcosa di molto curioso perché per la prima volta si è assistito a un episodio che appunto non era mai capitato in questo gioco secolare che è il baseball e con la mente ci trasportiamo al 26 di giugno in una partita tra Toronto Blue Jays e Boston Red Sox. Come vedete c'è il diluvio universale nel box di battuta c'è un giocatore il ricevitore dei Toronto Blue Jays Danny Jensen che appunto era in procinto di andare a battere partita che però non si giocherà più almeno verrà sospesa e per regolamento viene rimandata da tra destinarsi partita che peraltro si è giocata due mesi dopo il 26 di agosto. Il colpo di scena però qual è? Che nel frattempo Danny Jensen è stato scambiato appunto dai Toronto Blue Jays verso i Boston Red Sox e una delle partite che appunto Jensen ha dovuto giocare contro i Boston Red Sox è stato contro i Toronto Blue Jays nel recupero della partita dove Danny Jensen di fatto era protagonista della sospensione nel box di battuta. Di conseguenza calcolando che qui vediamo Danny Jensen con la maglia dei Boston Red Sox abbiamo usato qualcosa di unico perché il giocatore americano è stato il primo giocatore in tutta la storia della Major League Baseball a giocare la stessa partita per entrambe le squadre. È successo perché appunto nel frattempo Jensen dai Blue Jays si è scambiato ai Boston Red Sox e ha giocato la stessa partita dove lui era stato sostituito come battitore prima della sospensione. Qualcosa di leggendario in qualche modo anche in questa stagione i Boston Red Sox sono entrati nella storia con un giocatore che per la verità è un buonissimo mesterante, un ottimo comprimario ma appunto ha fatto veramente qualcosa di straordinario appunto cose che possono capitare soltanto nel meraviglioso gioco del baseball. Presumiamo la panoramica della nostra classifica e passiamo verso il centro dell'American League dove nell'American League Central appunto i Cleveland Guardians o Indians se volete chiamarli ancora così sono primi con 77 vittorie e 59 sconfitte, 4 vittorie nelle ultime 10, una sconfitta al momento maturata nell'ultima partita ma comunque l'American League Central darà tante soddisfazioni in questa classifica perché in seconda posizione abbiamo i Kansas City Royals 75 vittorie e 62 sconfitte, 2 partite e mezza di distacco. Per quanto riguarda la formazione del Missouri con peraltro lo stesso record nelle ultime 10 di Cleveland Guardians ma attenzione perché i Royals sono in striscia aperta di sconfitte consecutive, siamo a 4 per il momento. Terzi sono i Minnesota Twins che sono appunto la terza forza di questa division, 73 vittorie e 62 sconfitte, anche loro sono comunque in lotta per un posto wildcard per una formazione che però anche qui nelle ultime 10 sta sottoperformando soltanto 3 vittorie. Invece il record speculare rispetto ai Minnesota Twins per quanto riguarda lo streak delle ultime 10 c'erano i Detroit Tigers che hanno vinto 7 partite nell'ultime 10 e sono però 69 vittorie e 68 sconfitte. Sono un pochino indietro rispetto alla wildcard, se dovessero ingrenare un mese di settembre potrebbero forse arrivare al terzo spot ma è veramente complicata. Comunque abbiamo una division clamorosa, quella dell'American League Central fatta da 4 squadre competitive e una no. Quella no ovviamente sono i Chicago White Sox che a un mese dalla fine della stagione regolare ha vinto solo 31 partite e ne ha perse 106. Può attentare al peggior record di sempre della Major League Baseball per comunque un generale, una division, quella dell'American League Central che mi ha francamente sorpreso perché non mi aspettavo francamente gli Indians primi in classifica. Mi aspettavo invece i Kansas City Royals perché avevano un core molto interessante. Vedere però Cleveland in prima posizione fa ben sperare e rende comunque competitività a una divisione che fino a qualche anno fa era abbastanza bistrattata perché era molto livellata verso il basso. Sono esplosi i fratelli Naylor, c'è comunque un buon monte di lancio al netto di qualche infortunio qua e là. Abbiamo uno Zera Meeres in stato di grazia per quanto riguarda Cleveland Guardians ma soprattutto abbiamo scoperto un nuovo leadoff che è Stephen Kwan che nella All-Star Game dell'American League era l'esterno centro titolare insieme a Juan Soto e a Ron Giadi. Certo non proprio due fermoni e quindi grande prestazione di Stephen Kwan che è un battitore di contatto plurimo con una altissima media battuta ma non molti fuori campo. Ma comunque fa il ruolo che deve fare quello dell'ottimo leadoff. Kansas City invece sfrutta il buonissimo mercato fatto sia in trade deadline sia evidentemente in free agency e è riuscito a mettere insieme attorno a Bobby Witt Jr. che sta letteralmente esplodendo un grandissimo core di giocatori. Quindi attenzione a questi Kansas City che potrebbero forse tornare ai fasti di un tempo nonostante appunto ci sia ancora Salvador Perez che di anni ne ha 40 il capitano dei Kansas City Royals. Minnesota invece è una squadra che dovrebbe evidentemente fare secondo me un piccolo salto in più per arrivare ai playoff diretti almeno tramite wildcard. Certo Minnesota è sempre tartassata dagli infortuni e deve sempre contare sulle sue superstar in modo alterno tra Royce Lewis, Carlos Correa e Byron Buxton. Però comunque alla fine è una buona stagione anche questa per i Minnesota Twins. Si sono invece risollevati i Detroit Tigers che hanno probabilmente trovato la strada per il rebuilding dopo anni di tanking sfrenato e qualcosa evidentemente si è visto. Dal mio punto di vista i Detroit Tigers potevano evidentemente puntare a qualcosa di più ma certo settembre è il mese decisivo quindi attenzione a come evidentemente arriveranno i Detroit Tigers e i Minnesota Twins nella rincorsa a Cleveland e Kansas City. Passiamo a Ovest. Nell'American League che comunque ha visto decisamente degli scossoni rispetto all'ultima review sono tornati dopo tempo in memory in prima posizione gli Houston Astros che si sono finalmente svegliati come al solito hanno preso all'inizio della stagione in maniera molto calma e sono riuscite ad arrivare al momento a 74 vittorie e 62 sconfitte, 6 vittorie nelle ultime 10, 4 vinte di fila al momento. Houston sta andando a vincere l'ennesima divisione dell'American League West sfruttando però che cosa? Il mancamento dei Seattle Mariners che sono sì secondi con un record positivo, 69 vittorie e 67 sconfitte ma stanno andando letteralmente in caduta libera dopo aver fatto degli ottimi mesi di stagione regolare. Adesso non c'è più probabilmente quel core che dovrebbe evidentemente attentare a una qualificazione diretta. L'unica chance per i Seattle Mariners è la wild card ma attenzione perché le partite sono veramente tanto tanto distanti. 69 vittorie e 63 sconfitte appunto per i Mariners che peraltro hanno esonerato l'allenatore Scott Servais mettendo evidentemente ad interim Dan Wilson. Servais è stato ritenuto il maggiore responsabile di questa debacle dei Seattle Mariners che comunque qualcosa hanno fatto nel mercato prendendo per esempio Randy Aros Arena. Non è bastato, attenzione perché è incredibile ma vero, dall'American League West finisse così la stagione e a oggi si qualificherebbe soltanto una squadra e quella squadra è Houston. Terzi sono i campioni in carica dei Texas Rangers che sono praticamente fuori da ogni gioco playoff. Hanno 9 partite e mezza di distacco dalla wild card, 10 dal primo posto dell'American League West, 64 vittorie e 72 sconfitte per i Rangers che non stanno difendendo onestamente il titolo nel migliore dei modi. Una stagione che non è mai praticamente partita e quindi a meno di ribaltoni clamorosi potremmo salutare già di fatto a fine settembre i campioni in carica. Quarti sono gli Oakland Athletics che non sono addirittura ultimi e stanno facendo una stagione dignitosa per le loro potenzialità. 59 vittorie e 77 sconfitte, peraltro record al 50% negli ultimi 10, chi appunto è molto in difficoltà, l'avevo detto però anche prima parlando di Aldegheri, sono i Los Angeles Angels che sono ultimi nell'American League West e stanno appunto chiamando giovani per rifare letteralmente la squadra, addirittura 8 sconfitte negli ultimi 10 per la formazione degli Angels che ancora una volta ha Mike Trout infortunata e che ancora una volta non riuscirà a far vincere al giocatore numero 27, qualcosa di interessante. Passiamo alla National League e ci spostiamo come sempre da Est a Ovest in una division, quella che mi vede coinvolto in quanto il tifoso Metz con il Philadelphia Phillies in testa. 80 vittorie, 56 sconfitte, 6 vinte negli ultimi 10 per la squadra che in questo momento è la più forte per quanto riguarda la National League East, ma non tutta la National League perché è una squadra che ha il record comunque superiore. In seconda posizione sono gli Atlanta Braves con 74 vittorie e 62 sconfitte. Atlanta, ripeto, è in questa posizione per la mariede di infortuni che ha attanagliato la formazione dei Braves. Quelli lungo degenti appunto sono stati Spencer Strider e Ronald Alcuna Jr. Si è infortunato nel frattempo anche Michael Harris II, uno dei giocatori più importanti di questa squadra e quindi nonostante comunque delle vittorie importanti, sette nell'ultime 10, il distacco dai Philadelphia Phillies è comunque rilevante di sei partite, annetto che comunque finisse così la stagione. La Tanta Braves avrebbero un posto ai playoff tramite wildcard. I May New York Metz hanno fatto un ottimo mese di giugno, un ottimo mese di luglio, un discreto mese di agosto più o meno al 50% e adesso sono invece in Rush, una squadra giovane e attelenante che appunto rispecchia il core delle sue superstar e della tipo di squadra che evidentemente è stata costruita. 72 vittorie e 64 sconfitte per quanto riguarda i Metz che sono comunque in piena lotta per la wildcard. Due partite di distacco dagli Atlanta Braves che sono le stesse che li separano dalla wildcard. Peraltro i Metz ne hanno vinte sette, negli ultimi dieci sono tre vittorie consecutive quindi una grandissima prestazione per il momento per i Metz che dovrebbero puntare a un settembre di fuoco ed è importantissimo nei eventuali playoff lo stato d'animo. Se una squadra arriva forte in questi playoff allora attenzione perché potrebbe recitare il ruolo di squadra del destino appunto a ottobre. Se invece una squadra anche forte arriva a scarica potrebbero avere invece dei problemi appunto più importanti che uno stato d'animo invece molto forte. Vedremo comunque ancora una volta la East Division della National League è veramente tanto competitiva. Sono fuori dei giochi invece i Washington Nationals con 61 vittorie e 75 sconfitte al netto che i Nationals hanno avuto una stagione più che dignitosa Miami invece è sempre stata fuori fin da maggio 50 vinte, 86 sconfitte, ultima posizione per quanto riguarda la formazione dei Marlins. Passiamo al centro, la National League Central arriva con questo record, i Milwaukee Brewers sono primi con 80 vittorie e 56 sconfitte stesso identico record dei Philadelphia Phillies. Peraltro nella National League Central abbiamo due squadre in rush. Una appunto sono i Milwaukee Brewers, 7 vittorie nelle ultime 10 e 5 vittorie di fila. 5 vittorie di fila anche per i Chicago Cups, squadra giovane terribile che comunque fino a poco fa era ultima in division. Con questo finale del mese di agosto 8 vinte nelle ultime 10, 5 consecutive si sta rilanciando palesemente per una corsa disperata alla World Card. L'anno scorso i Chicago Cups mancavano nei play-off di due partite ma sono intenzionati a qualificarsi a questo giro. Hanno un mese di tempo per potersi riuscire, certo devono puntare solo alla World Card perché 10 pariti di differenza rispetto ai Brewers sono veramente tanti, sono 70 le vittorie per i Cups a fronte di 76 sconfitte. Esattamente al 50% abbiamo i St. Louis Cardinals, sono 68-68, quarti sono i stessi nati Reds, 64 vittorie e 73 sconfitte. Ultimi sono i Pittsburgh Pirates, 63 vittorie e 72 sconfitte per una National League Central che evidentemente era molto più competitiva nell'ultima review che abbiamo fatto ad agosto. Adesso invece i valori sono letteralmente emersi, Milwaukee e Chicago stanno cercando di prendere il largo, deve stare dietro St. Louis. Sessi nati e Pittsburgh sono invece due squadre giovani ma di molta prospettiva è evidente come abbiano fatto al momento un passo indietro. La lotta probabilmente sarà tra i Milwaukee Blues per vincere la divisione e un posto wildcard potrebbe forse uscire tra Ovest e il centro a meno che l'Est non faccia delle rimonte incredibili. A proposito di Ovest, National League West, i Los Angeles Dodgers hanno il miglior record della National League, 82 vittorie e 54 sconfitte, 8 vinte nelle ultime 10 e 4 consecutive. Stanno facendo finalmente i Dodgers, questi giocatori che sono stati presi con un monte stipendi altissimo che erano previsti evidentemente in questa prima posizione della National League West ma appunto sappiamo che i Dodgers sono costruiti per i playoff e non per la regular season. E comunque il distacco, o meglio il vantaggio rispetto alle altre formazioni non è così eclatante sulla carta, evidentemente ci si poteva aspettare qualcosa di più. Al netto che anche nelle Los Angeles Dodgers gli infortuni l'hanno fatta da padrone. In seconda posizione abbiamo gli Arizona Diamondbacks che finalmente stanno facendo un po' gli Houston Astros dell'American League West, ovvero sono partiti tanto piano fino all'All-Star Game. Da dopo l'All-Star Game invece però hanno ingranato e adesso sono in rush, 6 vittorie negli ultimi 10, certo tra sconfitti di fila, ma il mese di agosto dei D-backs è stato clamoroso con 17 vittorie. In 20 partite, 76 vittorie e 60 sconfitte per i vice campioni in carica che in questo momento sarebbero qualificati ai playoff tramite wildcard. Terzi sono i San Diego Padres che dopo anni di figurine finalmente hanno trovato un core degno di questo nome e stanno anche loro lottando in piena lotta per i playoff. Avrebbero in questo momento la qualificazione e hanno un record decisamente positivo, 77 vittorie e 61 sconfitte. Finalmente l'American League West non è soltanto un dominio dei Dodgers ma è una division molto combattuta, a reccezione per le ultime due formazioni che io di fatto darei già per spacciate, a partire dai San Francisco Giants 68 vittorie e 69 sconfitte e i Colorado Rockies 51 vittorie e 86 sconfitte. C'è da parlare comunque di un altro milestone veramente importante dopo quello di Aaron Judge. In questo mese un'altra superstar di questo gioco si è ancora più eclissata nel ruolo della superstar, si è issata meglio nel ruolo di superstar. Parliamo dell'unicorno Shwayo Tani in una partita che vede il pareggio in questo momento tra Tampa Bay e Los Angeles Dodgers. Il giapponese è imbattuta e decide di effettuare un milestone dei 40 fuoricampo e 40 basi rubate in una singola stagione con questo giro di mazza che viene impattato nel buco tra esterno centro e esterno destro, tenta il recupero dell'esterno centro di Tampa Bay ma non basta! È walk-off home run per l'unicorno Shwayo Tani con questo giro di mazza sbattuto fuori dalla recensione del Dodger Stadium diventa l'ennesimo giocatore della storia a fare 40 fuoricampo e 40 basi rubate in una singola stagione lo fa nel migliore dei modi con un walk-off home run che è il giro di mazza che permette ai Dodgers di rompere il pareggio e vincere la partita appunto il 40-40 clave è veramente tanto esclusivo, soltanto i grandi campioni ci sono riusciti e ricordiamo questa cosa qui, Otani quest'anno non lancia, è stato operato al gomito, quest'anno si permette di fare solo il battitore disegnato e lo fa con queste cifre appunto da MVP della National League, l'unicorno come dicevo anche nello short di qualche giorno fa si conferma veramente un giocatore leggendario veramente per i Los Angeles Dodgers che appunto dovranno attentare al bersaglio grosso, ovvero non solo ai play-off ma forse anche alle World Series e parliamo di play-off perché è importantissimo in queste finali di stagione vedere come si conformerebbero appunto le squadre qualificate alla serie finale della stagione con appunto i qualificati diretti di regular season e le wildcard finisse così in questa stagione, New York Yankees, Cleveland Guardians e Houston Astros sarebbero qualificate ai play-off e tramite le wildcard avremmo da Est i Baltimore Orioles, dal Centro i Kansas City Royals e i Minnesota Twins per chi non conoscesse il gioco del baseball MLB come funzionano i play-off? da qualche anno c'è il format delle squadre allargate quindi 12 squadre in totale, 6 per Lega passano le prime tre vincitrici di ogni divisione e le prime due hanno direttamente il bye verso il secondo turno dei play-off la peggiore vincitrice della divisione invece si qualificherebbe sì ai play-off ma nel primo turno le wildcard series e nel tabellone che appunto avrebbe come test di serie dalla 1 alla 6 affronterebbe la squadra numero 6 del tabellone in questo caso l'ultima qualificata tramite wildcard ovvero i Minnesota Twins invece le altre due qualificate in questo caso i Baltimore Orioles e i Kansas City Royals si sfiderebbero in un turno al meglio delle tre partite sempre delle wildcard series è una wildcard dell'American League che a mio modo di vedere potrebbe coinvolgere altre tre formazioni oltre quelle sopra la riga i Boston Red Sox e i Detroit Tigers hanno ancora qualche chance Tampa Bay è leggermente più defilata non ce la vedo comunque in un'ottica qualificazione dei play-off da Toronto in giù invece parliamo di squadre che sono assolutamente fuori dai giochi e qui ci sono anche i Texas Rangers i campioni in carica discorso leggermente diverso invece andrà fatto per quanto riguarda la National League il format sarebbe lo stesso quindi qualificate di diretto tramite le vincitori di division sarebbero i Los Angeles Dodgers i Milwaukee Brewers e i Philadelphia Phillies e tramite wildcard avremmo gli Arizona Diamondbacks che sarebbero i vice campioni in carica i San Diego Padres dalla National League West e da Est invece avremmo gli Atlanta Braves il tabellone finisse così oggi la stagione al primo di settembre reciterebbe che Los Angeles Dodgers e i Milwaukee Brewers sarebbero qualificate alle Division Series quindi al secondo turno Philadelphia come peggiore amicite di division al netto che avrebbe lo stesso record dei Milwaukee Brewers ma qui fanno fede di sconti diretti andrebbe ad affrontare gli Atlanta Braves in un derby della National League East una clamorosa prima serie di play-off così come sarebbe molto ma molto interessante un derby della National League West al primo turno tra Arizona Diamondbacks e Atlanta Braves anche qui le squadre sono un pochino più defilate come record per qualificarsi alla play-off tramite wildcard va detto però appunto che fino a qualche mese fa o qualche settimana fa meglio c'erano tantissime squadre coinvolte praticamente tranne le ultime due formazioni della classifica erano tutte in lotta per i play-off adesso non è più così secondo me a fine San Francisco Giants sono tutti coinvolti sono coinvolti anche i miei Mets che appunto sono in rush con tre vittorie consecutive 7-20 nelle ultime 10 mancano due vittorie per arrivare ai play-off sarà un mese di settembre assolutamente clamoroso ci ritroveremo al termine dell'ultima giornata di stagione regolare per presentare dunque i play-off per vedere come arriverà evidentemente il core delle squadre MLB alla Hunt to October il mese più bello e più magico del meraviglioso gioco del baseball quindi appuntamento con i video lunghi a inizio ottobre dove peraltro inizieranno tanti contenuti a tema baseball con le dirette Instagram su MLB Italia con ogni recap a fine turno per il commento finale alle Borsini insomma arriviamo nel momento che ci interessa di più il finale della stagione quindi vedremo cosa succederà se sarà cambiato qualcosa rispetto a queste classifiche e chi evidentemente arriverà a qualificarsi ai play-off il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video